Per chi lo conosce sono sufficienti le citazioni musicali che aprono ciascun capitolo a identificare l'autore del Paradosso di Ippocrate, romanzo di Nicola Gervasini incentrato su una protagonista al femminile alle prese con situazioni ben più grandi e ben più pericolose di lei. Una dottoressa, un medico che si trova a combattere innanzitutto contro quelli che sono i cosiddetti poteri forti anche del mondo ospedaliero che governano un po' politicamente la sanità e che portano ad un paradosso dove magari la sanità non viene considerata e vengono considerati elementi difficili. Lei vuole combattere questo mondo però si trova a farlo in una situazione un po' particolare. Da una parte i medici che credono fermamente nel giuramento per eccellenza dall'altra i colossi economici, le big pharma e quella giusta dose di fibrillante complottismo che somiglia molto ai giorni nostri. Il tutto narrato col gusto del ritmo, dell'ironia, delle pagine movimentate alternate a momenti di riflessione intima tra conflitto e consapevolezza. Presentato nella Biblioteca di Varese, il Paradosso di Ippocrate è anche una dichiarazione d'amore alle penne di genere, ai maestri della tensione, ai cantori degli antieroi. A me piacciono quei gialli anche seriali ma che comunque non sono puramente gialli quindi sicuramente Montalban per quanto riguarda il mondo spagnolo e sicuramente anche Camilleri in Italia.